Mister, seconda vittoria, sei punti, è finito il campionato in casa e è tornato il pubblico. E' andata bene oggi? Direi che era la partita che sognavamo perché abbiamo affrontato un torneo con squadre importanti di altissimo livello e in tante situazioni non siamo riusciti ad essere equilibrati. Oggi direi che per me è il massimo perché vincere 1-0 senza subire gol era importante, poi era l'ultima partita in casa quindi era fondamentale per regalare alla nostra società, ai nostri spettatori, tre punti che per noi sono importantissimi. Dov'è che secondo lei avete vinto la partita? Noi la partita l'abbiamo vinta con i tre attaccanti perché non abbiamo mai scelto di giocare con un attaccante o due attaccanti ma sempre con tre perché sono convinto che se gli attaccanti danno una mano nella fase difensiva poi quando si entra in possesso di palla hanno grandi qualità per andare a far male ai nostri avversari. Ovviamente abbiamo incontrato delle squadre molto più attrezzate rispetto a noi e questo ci ha penalizzato con il discorso dei tre attaccanti. Però noi facciamo un calcio dove ci crediamo in quello che facciamo e oggi ci ha dato una grande soddisfazione. Che cosa le lascia un mini torneo come questo? Mi lascia delle cose importanti perché sono state delle partite dove abbiamo valutato dei ragazzi giovani, dei profili 2001-2002 che abbiamo messo in organico a inizio stagione e direi che hanno dato delle risposte positive in maniera tale che all'inizio della prossima stagione hanno già avuto un'esperienza cosa che è difficile per un giovane che lascia gli allievi o la juniore se fa il salto in prima squadra. Loro hanno già questa decina di partite dove sono stati anche in uno spogliatoio di atleti avoluti e si portano un bagaglio di esperienza che le potrà servire nel futuro per la loro crescita. Faccio l'ultima domanda. Il settimo mantiene un campionato di eccellenza con un budget che è un decimo rispetto ad altre squadre. Come fate? Guardi, mi fa piacere che lei riconosce questa cosa perché effettivamente noi abbiamo deciso di partecipare a questo torneo nonostante la prossima stagione avremmo potuto fare l'eccellenza perché è un torneo che non ci sono retrocessioni però la società ci ha fatto questo regalo per poterci allenare e direi che non ci sono segreti bisogna solo scegliere dei ragazzi che hanno voglia di impegnarsi, di allenarsi durante la settimana e che il discorso economico è sì importante ma fino a un certo punto perché siamo dei dilettanti dovremmo giocare per diletto se ci danno qualche soldino ogni tanto siamo contenti. Questo per noi è un immenso piacere dare i tre punti a una società dei dirigenti che si sacrificano per noi. Roberto, oggi è andata bene, grandi parate, grandi partite, è tornato al pubblico. Sì, forse avevamo anche bisogno un po' del pubblico ma adesso a parte il discorso pubblico era una partita più alla nostra portata e quindi sicuramente abbiamo incontrato squadre nettamente più attrezzate di noi ma che sapevamo perché noi abbiamo fatto un incontro prima del campionato la nostra scelta era quella di giocare con i giovani, provare i giocatori. Purtroppo abbiamo preso alcune imbarcate che ci hanno un po' diminuito il morale e ci hanno reso un po' più vulnerabili però secondo me quando vedi che la squadra sia con la Vogherese che con il San Colombano reagisce quando c'è squadre alla nostra portata vuol dire che poi non è tutto da buttare bisogna essere un po' razionali, capire un po' quello che è positivo e quello che è negativo quindi non bisogna né esaltarsi né deprimersi secondo me abbiamo dimostrato che alcuni giocatori anche per l'anno prossimo possono assolutamente starci quindi niente sono contento anche se è stato molto difficile perché incontrare sempre squadre più forti di te, più attrezzate di te non è facile anche a livello psicologico però sono contento della prestazione odierna adesso bisogna costruire, bisogna lavorare e cercare di capire quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e questo sarà il nostro compito per l'anno prossimo sicuramente l'anno prossimo cercheremo di essere una squadra sia abbastanza giovane ma non eccessivamente giovane anche perché se no la categoria non si tiene cercheremo di trovare dei giocatori anche un po' con più esperienza adesso il lavoro sarà duro abbiamo alcuni giocatori in prestito adesso andremo a discutere un po' e vedremo grazie a tutti